Quando ogni speranza sembra perduta. Andiamo via da qui! Quando gli eroi... Aiuto! ...sono più necessari che mai. Il nostro destino è nelle loro... ...zampe. Un cane? In realtà, signore, sono un cucciolo. Ancora peggio! Lei è sotto shock, non la prenderà sul personale. Quest'anno... Un altro salvataggio perfetto! I cuccioli sono pronti. Per una super avventura sul grande schermo. Oh, patrol, qual è l'emergenza? Mi chiamo Liberty, ci serve il vostro aiuto. Hamdinker vuole distruggere Adventure City. Andiamo, cuccioli. Adventure City è nei guai. Benvenuti nel nuovo quartier generale. È troppo bello! C'è perfino un nuovo dispenser di croccantini evoluto. Che c'è? È una cosa bellissima! Niente cani! Per ordine del nuovo sindaco. È più da gatti come persona. Signore e signori! E soprattutto, influencer con più di 10.000 follower? È ora di illuminare il cielo! Dobbiamo salvare quelle persone. Diamoci da fare! Arrivederà! Al lavoro, Poufadron! Ma stiamo scherzando? Ci penso io. Levati di mezzo! Via! Devi saper parlare con le persone. Ora andate! In moto le gomme, battiamo le fiamme! Al geloppo, Cowboy! Schierare motocicletta! Questo è il nostro lavoro. Nessuna città è troppo grande per un cucciolo coraggioso. Schierare drone smutandatori! Cavoli!